ciao richi affrodite come state vedendo dal titolo oggi starò districando i capelli con i pettini a forchetta di plastico prima di cominciare a spiegarvi tutto vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace al video allora come state vedendo dall'immagine io inizio per fare una divisione dei capelli con le mani in varie sessioni ci tengo a dire che questo districaggio questo districamento non lo so lo sto facendo dopo aver lavato i capelli quindi ho lavato i capelli non ho districato in bagno perché questo è il video dopo quello dove stavo provando il sapone al carbone alla menta che mi aveva mandato Olga se non l'avete ancora visto controllate il canale oppure controllate in infobox che se mi ricorderò metterò il link comunque in infobox trovate tutti i miei insomma i miei sociali tutto potete comunque incontrare in altri in altri social diverso come instagram e facebook quindi siccome avevo lavato i capelli con questo sapone alla menta io dopo non ho utilizzato né balsamo né niente i capelli mi sono rimasti abbastanza morbidi e quindi ho proceduto ad istricare i capelli fuori doscia non da bagnati ma umidi dopo che ho diviso in sessione la cosa che vado a fare con il pettino a focchetta iniziare a districare dalle punte questa questa metodologia si fa un po con tutto anche se utilizzi una spazzola se utilizzi un pettine sempre bisogna iniziare dalle punte e vai salendo piano piano fino ad arrivare alla radice io vi devo dire che dovete avere pazienza sempre per districare i capelli ricci afro bisogna avere pazienza perché ogni volta è diverso ci sono momenti ci sono volte in cui i capelli hanno meno nodi quindi finisci prima ci sono altri momenti in cui i capelli durante la settimana diciamo sono creati più nodi perciò devi avere del tempo tu devi trovare un giorno in settimana un orario in settimana in cui puoi dedicare quell'orario quel tempo ai tuoi capelli per districarli perché districando troppo velocemente quello che vai a provocare magari è che si spessino i capelli e perciò questa è una delle ragioni per cui tante volte non vediamo la crescita dei capelli i capelli crescono ma si spessano le punte si spessano anche le lunghezze perciò non vediamo la lunghezza però la crescita c'è ognuno con i suoi tempi ovviamente ma la crescita c'è io ho voluto fare questa volta con il pettine a forchetta perché volevo farvi e vedere che non solo si utilizza per creare volume dopo lo styling nei capelli si può utilizzare tranquillamente anche per districare o per pettinare i capelli però che altro per districare i capelli perché comunque io lì dove vedete non ho che non è che ho i capelli secchi ce l'ho umidi ok sono sono uscita dal bagno ce l'ho umidi e quindi ancora mi permette di districarli io non vi consiglio di farlo di districare i capelli e quando sono secchi sono asciutti cioè secchi non secchi sarebbero desidratati asciutti quando sono asciutti no perché lì veramente in base vi dico sempre alla mia esperienza personale i miei capelli da asciutti sono più delicati si spessano più facilmente si metto pettine a forchetta oppure spassano e quindi per evitare meglio inumidire i capelli e poi procedere a quello che è il districamento un'altra cosa che volevo dirvi quando finite di districare la sessione mi raccomando fate una crescia o un tweet perché questo aiuterà a conservare i capelli senza nodi perché se volete lasciati così all'aria saltata in un'altra sessione è molto probabile che si creano nudi un po' muovendo di qua muovendo di là si creano ulteriori nodi e deve iniziare comunque di nuovo per diciamo ottimizzare i tempi fate twist iniziate con l'altra sessione districate fate twist o fate trescia comunque quello che più vi viene più facile adesso adesso vedrete comunque tutto il resto dei capelli il video ve lo ci stato perché in sé non è che ho altre cosette da dirvi però volevo farvi vedere tutto il processo e comunque ricordatevi che se avete qualsiasi dubbio qualsiasi dubbio potete lasciarmi un commento oppure potete andare su instagram a scrivermi in diretto che lì generalmente tendo a rispondere più velocemente perché mi arrivano le notifiche più velocemente su instagram che su youtube niente io intanto vi lascio al video vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale di lasciare un bel mi piace 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 un bel mi piace